Sta affrontando la prassi, anche lui. Vai, 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 vai! Bello! Bravo! Vai, vai, vai precisi, vai precisi. Ok. Vai, Kong, vai, Kong. Buono. Lento, eh, lo voglio, lento. Vai, vai. Ti fa tinta una besta, che va tinta. Ma cosa ne pensi di questo Precision? Ma penso che è un buchinario proprio. Ma penso che è un buchinario. Vai! Ciao